Sì, questa è la mia primissima crociera, infatti quando mi hanno chiesto di partecipare a questo film di Neri Parenti, Natale in Crociera, ho detto, beh, prendo due piccioni con una fa, faccio una cosa che mi piace e ne approfitto per fare una vacanza. La prima volta che ho visto questa nave ho detto, impossibile, è un palazzo che cammina, è enorme, 12 piani, non di morbidezza perché anzi è abbastanza consistente, quello che mi domanda è come faccio a galleggiare e a viaggiare così velocemente, però lo fa, lo fa, poi è bella, è immensa, c'è di tutto, non puoi chiedere di più.